Il Chieti torna al successo 1-0 al Tolentino ma la posizione di Corrado Cotta resta appesa a un filo. Tosi in pole position per un'eventuale sostituzione del tecnico Comasco sarebbe stato avvistato in tribuna anche Manoni, ex allenatore del Castelfidardo. Nelle prossime ore la società prenderà una decisione. Intanto Ettore Serra prima dell'incontro premia Stefano Marchionno, presidente del Comitato per il Centenario, omaggiandolo con una maglietta celebrativa applausi da parte dello Stadio Angelini al suo indirizzo. Tolentino in divisa nera con banda Cremisi guidato da Maurizio Mattoni, 5 sconfitte consecutive nel campionato anche se in settimana si è risollevato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia dopo i calci di rigore con il Fano. Tenuta bianca invece per il Chieti con risvolti nero-verdi, Barbetta affianca Cesario nel reparto avanzato fuori d'Innocenzo, Palmisano, Poletto recupera Giacomo Rossi che siede in panchina, Francesco Serra che qui respinge su Cicconetti confermato in porta e il Chieti fatica a costruire. Allora Barbetta ci prova dalla distanza, pallone che si infrange contro la traversa, apprezzabile lo spunto personale anche se la risposta del Tolentino non si fa attendere nella sezione finale della prima frazione di gioco. 0-0 all'intervallo con questo brivido per Simone Moro pochi istanti prima del duplice fisco da parte di Leorsini della sezione di Terni. Ripresa che vede subito protagonista Serra con questo intervento coraggioso, rimane a terra dolorante il portiere del Chieti che poi però si riprende, il risultato non si schioda e allora è Moro, Tola, Massahud a prendere la squadra per mano. Prima con questa progressione, quando parte il centrocampista in campo aperto, diventa imprendibile Massahud, sempre lui, trova la deviazione in calcio d'angolo di Simone Moro. Il Chieti adesso attacca, lo fa con maggiore convinzione rispetto al primo tempo. Città a nuvole, il primo gol in nero verde dopo aver preso il posto di Barbetta al fianco di Cesario che qui reclama un calcio di rigore per l'intervento di Riberon che ad ogni modo è ritenuto regolare. Dalle Orsini protesta la tribuna all'indirizzo dell'arbitro Ternano. Il Tolentino si rende pericoloso sporadicamente sui calci da fermo ma il Chieti a segnare, trascinato dal capitano Manfredo Pietrantonio. La sterzata, pallone sul destro, rimbalza sulla spalla sinistra di Marco Di Biaggio con Moro che non riesce ad evitare il gol dello svantaggio. Chieti che segna, gol di Pietrantonio, esulta sotto la curva Volpi, un gol che accende tutto lo stadio Angelini. Chieti che potrebbe addirittura trovare il gol del raddoppio a tempo scaduto con Amato. Intervento decisivo da parte di Simone Moro, l'ennesimo per il portiere Tolentino Atel. Chieti torna al successo davanti al proprio pubblico, non vinceva in casa dalla prima giornata quando si impose sul vasto Girardi una boccata d'ossigeno per Corrado Cotta, anche se per lui la vittoria ottenuta contro il Tolentino potrebbe non bastare. Ma io penso che il gruppo di lavoro non sia mai stato in discussione nei confronti dell'allenatore, penso, poi magari sbaglio, assolutamente, perché quando una squadra, ripeto, nel microciclo, nella settimana, lavora, ci prova, si impegna, eccetera, eccetera, va tutto bene. Io non lo so se poi dopo i rumors dicono quelli. Io con tutti i giocatori ho un ottimo rapporto, chiaramente un rapporto d'allenatore e giocatore, e non vedo perché. È chiaro che la squadra mi segue e la squadra sta crescendo sotto tutti i punti di vista. E la squadra ancora oggi, ma come sempre, come sempre, ha dato tutto. Ha dato tutto. Ci ha provato, non ci ha provato, viene rischiato, siamo andati da 3-5-2 a 3-4-1-2 perché poi si rischiano le partite. Oggi la diciamo così perché è stata vinta, perché tu la partita poi la perdi e dici, eh no, ma a quel punto no, a quel punto niente. Cioè la squadra è consapevole che deve correre come o più degli altri, deve avere un atteggiamento sempre e comunque giusto e la squadra lavora giorno dopo giorno per cercare di migliorare queste situazioni. Non sono soddisfatto del gioco che stiamo facendo. Secondo me il mio gruppo, sapete che lo difendo fino alla morte, i miei giocatori, secondo me, hanno la qualità per poter dimostrare anche di essere qualcosa in più. Noi non siamo quelli di Pineto. Qualcuno ha fatto questa affermazione. Noi siamo un'altra cosa. E secondo me questa qualità può venire fuori. Al di là di alcune considerazioni corrette che la piazza, voi giornalisti, giustamente affermate che la squadra in alcuni reparti potrebbe essere rinforzata. Di conseguenza lunedì mi riprometto di decidere se o no cambiare la guida tecnica del Chieti Calcio. Poi i ragazzi, con la grinta che ha messo nel secondo tempo, perché possiamo dire che abbiamo avuto veramente uno scatto d'orgoglio, ma il gioco non mi ha soddisfatto. Quindi ci tenevo a dire queste poche parole e lunedì saprete se ho deciso oppure no di fare questo avvicendamento. E quindi saprete anche se lo farò, chi sarà eventualmente la nuova guida tecnica del Chieti. Oggi abbiamo fatto un primo tempo inguardabile, secondo me, mi è assolutamente piaciuto. Il secondo tempo è stato migliore non per il gioco, ma per la grinta, la volontà che i ragazzi si capiva chi ha visto la partita, volevano assolutamente portare a casa il risultato. Io onestamente ho 58 anni, faccio questa professione da qualche anno. Più di una volta, se il gruppo non ti segue, devi essere consapevole e razionale. Dice, signori, benissimo, le mie idee sono in questa direzione, le vostre sono dall'altra, arrivederci e grazie, per l'amor di Dio. Tanto poi, nella vita, voglio dire, non bisogna per forza ostinarsi a rimanere in posti dove magari non ci stai per centomila motivi. Ho avuto anche dei gruppi difficili da gestire, perché poi dopo ci sono anche quelle, ma io non ho mai avuto problemi, vi dico la verità. Sono qua per ringraziare la città di Chieti e soprattutto i tifosi e chiedere scusa se al momento ci sono delle incomprensioni. Sono stato accusato domenica, finita la partita, di ridere, assolutamente no, però non facciamo polemiche, con qualcuno ho già parlato, li ho spiegato il perché ridevo, sicuramente non rido dopo una sconfitta di una società per cui lavoro, grande rispetto per Chieti in primis, per i tifosi e soprattutto per la proprietà. Quindi queste quattro parole volevo nuovamente scusarmi se ci sono state delle incomprensioni. Calcisticamente stiamo provvedendo a fare delle situazioni gradevoli, riteniamo che Chieti sicuramente è una città che vuole vedere calcio e sono convinto che tutti insieme, tutti insieme perché a me piace collaborare, non comandare, assolutamente. Quindi non faccio nessuna polemica, ci confronteremo con la proprietà e sono convinto che soddisferemo al meglio questa piazza che ha bisogno di vedere calcio.